La sezione elenco test riporta i possibili test da far eseguire al portiere per valutare le sue prestazioni fisiche come resistenza, reattività, esplosività, ecc. Oltre questi, l'allenatore può inserire anche dei propri test specifici, accedendo sempre dall'icona dei dettagli e compilando la scheda presentata. Occorre inserire una descrizione dettagliata, c'è anche la possibilità di inserire fino a tre foto e di indicare se il test deve essere eseguito con uno o con entrambi gli arti.